Libera che abbiamo all'ordine del giorno, chi approva? Unanimità. Nella sala consigliare di Minucciano il sindaco Nicola Poli e tutto il consiglio comunale hanno conferito la cittadinanza onoraria al maresciallo dei carabinieri Giuseppe Lucchesi, comandante della stazione di Gramo Lazio. La cittadinanza è stata concessa a Lucchesi per il suo incomiabile lavoro e per quanto fatto fino ad oggi nella difesa del territorio e della cittadinanza. Il conferimento della cittadinanza onoraria a una persona che se l'è meritato, che è un grande amico dei cittadini e dell'intero territorio di Minucciano e quindi abbiamo voluto tributargli questa importante non-efficienza per il nostro comune perché rimanga comunque sempre con noi. Lucchesi, originario di Gallicano, dopo aver svolto nell'arma altre importanti incariche, ha comandato la stazione di Gramo Lazio negli ultimi 25 anni, guadagnandosi la stima di tutta la popolazione. Stima e riconoscenza che adesso il comune di Minucciano ha voluto sottolineare a pochi giorni dal congedo del maresciallo, per lui domenica 4 giugno, l'ultimo giorno di servizio. La cerimonia si è svolta davanti a quasi tutti i comandanti delle stazioni carabinieri del territorio, tanti colleghi, ex colleghi, amici, parenti di figli Luca e Ilenia ed è stato un momento toccante per tutti, con tanti applausi tributati a Lucchesi che alla fine ha ringraziato, davvero emozionato. Tutto quello che si può sperare oggi sia avverato, io ringrazio tutti l'amministrazione comunale in primis, tutti i colleghi, tutta la popolazione di Minucciano che in questi anni mi ha dato tanto, ha fatto sì che io crescessi e diventassi quello che sono, io più che grazie non posso dire. Oltre alla pergamena della cittadinanza, il comandante Lucchesi è stato consegnato il prezioso dono del barbone minucianese d'argento, moneta della storia di questo territorio, a testimonianza dell'appartenenza del comandante alla comunità.